Noi, senti, prima del collegamento ti avevo chiesto se gentilmente... Sì, però dai, cioè, mi devi aiutare. Io faccio una proposta. Allora, se mi aiuti a cantare Vianutuyu, ti faccio un pesetto di Vianutuyu. Va bene, io chiedo già scusa ai nostri radioascoltatori perché è una proposta che mi ha fatto lei. Non è una mia idea, io, cioè... Ma dai, ma su, su, dai, 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 che sì, sicuramente sei bravissimo. Va bene, proviamo, ti vediamo qui dal mio cuore. Adesso no, non voglio più difendermi, supererò dentro di me, ostacoli i miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I give your heart and all the darkness disappear. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti